Signori, Codice46, film consigliato da Alex B e grazie del consiglio mi era scappato questo film. Non ne avevo mai sentito parlare, sono passati quasi 18 anni dalla sua uscita. Beh, lui e Tim Robbins sappiamo tutti chi è e lei ha fatto Minority Report. Il film lo accosterei un pochino a gatta, a una piccola parte. E' carinissimo, soprattutto i dettagli della fantascienza sono spettacolari. Voto 8. Un saluto a tutti, iscrivetevi al canale e mettete mi piace. Ciao ciao!